Inizia la discussione sul bilancio. Nelle sedute del 17 e 18 aprile il Consiglio regionale ha avviato l'esame della manovra di bilancio 2012 affrontando la discussione e la votazione dei primi articoli della legge finanziaria regionale. Il 17 aprile è stato anche approvato un ordine del giorno per aderire alla campagna per la sicurezza stradale dei ciclisti. In una pausa dei lavori è stata infine ricevuta una delegazione di rappresentanti del terzo settore che hanno denunciato la grave carenza di fondi per i servizi socioassistenziali. Al termine della seduta di mercoledì si è riunita la conferenza dei capigruppo per calendarizzare le prossime sessioni d'aula e per valutare la possibilità di un accordo che consente di evitare il referendum sulla caccia già indetto per domenica 3 giugno per permettere alla regione di risparmiare 22 milioni di euro.